come poten vedere baseato nei calcoli mi dice che il servizio sarà molto molle perché ripeto abbiamo un overrun alto, quindi qui abbiamo che trocare il che gente, come poten vedere la temperatura di servizio è almeno 15-45 con questo overrun, se io colloco un overrun di un 30% automaticamente mi dirà un po' duro ma praticamente stiamo con i parametri, ma ripeto il nostro problema è che ora aumentiamo la quantità di ar e per questo mi fa molto molle, ora che devo fare in questo caso, devo modificare questa risulta, come? Vamo tirando pack, in questo caso io voglio tirare dextrosi e in lugar da dextrosi, stavendomi fatte 50 grammi di solido, io voglio collocare malto destrini, come poten vedere usare un pack per te una referenza, ma io dopo tiro pack perché anche io non calcolo mai insieme ad un potere anticongelante, non serve di nada praticamente. Vamo collocare 45 grammi di solido, mi fa 44, 44 grammi di solido e come poten vedere con un pack praticamente 70 punti meno rispetto a un pack che si usa in un cervello normale, io sto con un parametro ok, cioè in sareseita, come poten vedere io ho dovuto tirare 70 punti meno rispetto a un pack.